Simona Malpezzi, 40 anni, eletta in Lombardia 1. Sono Di Pioltello, la capogruppo del Partito Democratico, mi sono sempre occupata di scuola ed è proprio in questa commissione, nella settima, che mi piacerebbe poter portare il mio contributo. Spero davvero che partendo dalla scuola, dalla formazione e dall'investimento sulla cultura possano cambiare le cose. Questo è fondamentale, come fondamentale è mantenere il contatto con il territorio. Penso che i deputati del PD questa idea ce l'abbiano ben chiara. Il processo di cambiamento si cambia insieme, si attua insieme mantenendo il filo diretto con gli elettori. Grazie.